Il presidente della regione Enrico Rossi ha annunciato lo stanziamento di altri 20 milioni di euro in aggiunta ai 65 già stanziati per concludere i lavori nei territori di Livorno, Cole Salvetti e Rosignano colpiti dall'alluvione del 10 settembre 2017, dove il governatore, commissario per l'emergenza, si è recato per un sopralluogo con l'assessore regionale Cristina Grieco, con il consigliere regionale Francesco Gazzetti e con i rappresentanti delle istituzioni locali. Vogliamo completare i lavori sul Rio Maggiore, i lavori sull'Ardenza e i lavori sull'Ugione e quindi ci prefiggiamo di appaltare questi lavori prima della scadenza del mio mandato di commissario perché abbiamo procedure più accelerate e con questi lavori non facciamo promesse esorbitanti ma siamo con la coscienza tranquilla di aver messo Livorno in condizioni di poter far fronte ad un evento drammatico. Come quello che si è avuto l'anno scorso. Prima tappa del sopralluogo di Enrico Rossi sui cantieri è l'inaugurazione delle opere di messa in sicurezza del fosso Cateratto a Stagno, nel comune di Colle Salvetti, poi in piazza delle carrozze a Montenero, dove sono in corso l'adeguamento del fosso Stringaio e il consolidamento del fosso della Banditella con un muro di sponda. Fare tante opere come stiamo facendo, mettere a posto intanto i canali, le cateratte che abbiamo, fare le vasche di esondazione, quello che faremo anche in funzione del cateratto è importante. Nel corso della giornata Rossi ha poi annunciato l'esenzione dal tributo di bonifica 2018 dei cittadini e degli imprenditori che nell'alluvione hanno subito gravi danni a Colle Salvetti e per i cittadini di Calcio e Vico Pisano interessati dall'incendio del Monte Pisano lo scorso settembre.